Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Alar che vi parla. Siamo qui con un leak veramente molto interessante per Modern Warfare 3 Zombie, una nuova Wonder Weapon. Il leak arriva dal buon Alla X, che ormai da Cold War che ci spamma tantissima roba, e con tutto rispetto Alla X, metti dei leak che sono disumani e poi ti lamenti che tiravano i ban sia sul gioco che su Twitter. C'è un po' da aspettarselo. Scherzi a parte, il leak questa volta è per la Wonder Weapon VR11, che abbiamo già visto su Call of the Dead di Black Ops 1. Allora, questa Wonder Weapon farebbe un ritorno clamoroso, perché appunto non la vediamo da Black Ops 1 più di dieci anni, ma era anche una Wonder Weapon molto molto strana e particolare, dannatamente efficace in co-op e molto molto meno in singolo, ma era quantomeno una Wonder Weapon, la cui capacità particolare, a parte essere utilizzata su George Romero, che era il boss di quella mappa, e al fatto che rendesse gli zombie nuovamente umani, tornavano i soldati della CIA. È una cosa veramente molto molto strana e sono sicuro che nella lore ci fosse comunque una spiegazione, per quanto molto molto contorta. Ciò non toglie che purtroppo, sia lo sciacallo, erano le due Wonder Weapon di Call of the Dead, entrambe specialmente in singolo, molto molto deboli purtroppo. Ripeto, in co-op era veramente fortissima, specialmente la versione potenziata, per chi non lo sapesse si poteva sparare al proprio compagno e gli si dava invisibilità, invincibilità e instant kill per giusto qualche secondo, più che sufficiente per sterminare una massa di zombie relativamente col minimo sforzo. Era quindi una dinamica molto molto particolare e alla X non ha soltanto mostrato l'arma, le sue munizioni, ma anche proprio una clip di come funziona. Questa clip ufficialmente è stata rimossa, ovviamente per copyright, ma qualche altro buon samaritano l'ha ricaricata su YouTube e ve la lascio in descrizione. Come sempre evito di mostrare a schermo, perché appunto su queste cose Activision è veramente molto molto brutale, al copyright e questi leak ci tengono veramente tanto. Ciò non toglie che la X dice, probabilmente verrà aggiunta in stagione 1, il che è veramente strano perché, ripeto, erano Wonder Weapon specialmente da utilizzare in co-op e non so quanto bene si potrebbe sposare su questo MW zombie. Ripeto, a vederla che ha la stessa animazione, suoni simili e altre cose, per quanto sia rifatta totalmente nuova ed è bellissima, sarei comunque contento di rivederla. Come ho detto prima, un ritorno dopo più di una decade, quindi tanta roba. Ma tra tutte le Wonder Weapon mi sembra un ritorno veramente strano. Quindi o è in qualche modo ricollegata per dire all'easter egg che forse verrà aggiunto in stagione 1 o in qualche modo è stata modificata col suo funzionamento per essere sicuramente molto più potente. Se per dire come in tanti speravano ai tempi, ci si potesse sparare addosso ai piedi per darsi da soli quello che è il potenziamento che vediamo in co-op, sarebbe molto molto efficace e molto divertente. Sembra quindi che i leak per questo MW zombie continuino veramente dappertutto e lo ammetto, sono veramente fighi. Già il gioco in sé comunque ha superato un pochino le mie aspettative, ci sto giocando abbastanza e mi sto divertendo, per quanto ci siano alcuni problemi tecnici e tutto quanto il gameplay, c'è un attimo da abituarsi. Non è sicuramente simile ai vecchi zombie e a tanti giustamente non piace, cosa che posso capire. Però con tutte le aggiunte che potrebbero fare, e secondo questi leak probabilmente faranno nel corso delle season, rimango un attimino più ottimista. Questo VR11 fa veramente strano vederlo, ma ne sono contento, per cui continuo a dirlo, che siano dei vecchi ritorni per Wonder Weapon, Perk o anche cose totalmente nuove, sono contento di qualunque aggiunta, purché sia in quanto meno sensata, efficace e divertente. Quindi ragazzi voglio sapere le vostre opinioni, come mi sembra un attimo il ritorno del VR11, che veramente mi fa scoppiare il cervello anche soltanto a pensarci, e ritorno da Call of the Dead. Se dovessero rimettere anche in seguito lo sciacallo, o altre vecchie Wonder Weapon che non vediamo da veramente tanto tanto tempo, ne sarei molto molto contento. Però ripeto che devono essere Wonder Weapon molto forti. Già per dire su queste MW zombie, la Wonder Waffe non mi fa impazzire, e anche il nuovissimo Scorcher mi sembra giusto più utile per il movimento, col fatto che ci spariamo in aria, piuttosto che l'arma in sé. L'unica davvero forte a mio parere è la Raygun, anche se mi sembra che il ratio di fuoco sia leggermente più lento rispetto agli altri zombie. Altri miei amici mi hanno detto che non è così, ma quella era quantomeno la mia sensazione. Rimane comunque la Raygun, molto molto forte. Il video quindi si conclude qui, spero come sempre che vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Tutte quante le fonti sono qui sotto in descrizione, assieme ai miei social, tra cui Instagram, Twitch e il canale Discord. Ci vediamo come sempre a un prossimo video. Un abbraccio. Alla.